Sono Valentina Garavaglia e insieme a Matteo Forte siamo i responsabili scientifici del Master in Live Entertainment dell'Università Yulm. Il Master ha deciso di scommettere dopo questo periodo pandemico che ha visto i teatri chiusi e gli eventi in sofferenza, di scommettere davvero sull'evento live e lo fa con un partner d'eccezione, Stage Entertainment, società leader nell'intrattenimento dal vivo e nella produzione teatrale che gestisce il Teatro Nazionale di Milano e il Teatro Lirico da cui vi parlo, sede del nostro Master. Sì perché abbiamo pensato che potesse essere importante per i nostri studenti seguire le lezioni all'interno di un teatro e imparare attraverso gli eventi proposti. Il teatro non è solo il luogo dove si svolgerà il nostro Master, non è solo l'oggetto del Master perché evento live significa anche eventi sportivi, eventi musicali, eventi che si svolgono all'interno di parchi a tema. Da qui la collaborazione con Ticket One, con Sony, con Magicland ed Aqua World. I docenti sono in parte docenti Yulme e in parte professionisti che vengono dal mondo dello spettacolo. Il percorso formativo pone l'accento sull'ideazione critica, la realizzazione e la gestione del contenuto di uno spettacolo dal vivo, sull'efficace valorizzazione del luogo all'interno del quale si svolge e sulle molteplici forme espressive del digital live. Modelli di business sempre più sofisticati e integrati impongono un set di competenze professionali articolato e in espansione per la rilevanza economica e sociale del fenomeno. Se il vostro sogno è allora quello di lavorare nel mondo del live, vi aspettiamo davvero su questo palcoscenico.